Ok ciurma, partiamo subito con il gameplay numero 17 di Dragon Ball Xenoverse, ecco vi saluto e possiamo andare in missione sperando di vincerla subito, vediamo un po', cercherò di impegnarmi ma qui ragazzi la cosa inizia a farsi pesante la storia, comunque vedremo vedremo, eccoci qui. Qu'è? Sì 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 potenza inizia un po' a vedersi spero bene spero bene vai super saiyan di secondo livello ottimo allora no no abbattiamo selle abbattiamo selle no ecco faccio vai un'altra volta paralisi li faccio eh ragazzi ecco questa volta non l'ho beccato purtroppo e dico purtroppo è difficilissimo selle ragazzi no vai riprendo un po' d'energia ecco qui ma giusto un po' ragazzi giusto per allora selle tu mi hai rotto è abbastanza direi no ora ti prendo da quelle corna che hai in testa quella specie di corna lì no allora vediamo un po' ecco facciamo questa ragazzi vediamo un po' se funziona fantastico ho fatto ballare selle ho fatto ballare selle attenzione no e vai così beh ti ho dato una bella lezione ora ecco qua le capsule di energia non mancano mai a brado ecco qua perfetto ho fallito anche con la mossa ok non lo becco mai va bene vai riproviamo a farlo ballare niente vabbè mi ritrasformo in super saiyan va almeno se colpisco gli farò un po' più male se colpisco però quello è il problema ragazzi quello è se mi hai stufato mi hai letteralmente stufato dai dai così siamo sulla buona strada siamo sulla buona strada per abbattere no no ecco qua e beh e beh ragazzi ho comprato le pozioni di energia go go no aiuto aiuto trunks aiuto aiutami no è quasi morto trunks no ma dai no ma non va bene così vabbè dai riproviamo ragazzi riproviamo la battaglia ma dai non va bene ma non va bene vabbè schippo i filmati qui ragazzi video chiamateli come volete ma vabbè dai no no vabbè non esiste non esiste ho le capsule d'energia ora ok ok ragazzi vediamo un po' se questa volta riesco nell'impresa perché battere cell qui è un'impresa anche se non ho perso per causa mia ma perché trunks giustamente si fa distruggere come un deficiente o ma che fa questa volta ti sto picchiando la grande cell te ne do di santa ragione sei già sceso a metà energia eh ok vai così vai eh no vabbè questa volta facciamo le cose per bene trunks qui eh ma vediamo se funziona la mossa nooo della paralisi ma non non è andata non è andata questa volta ti distruggo carosello ti distruggo ti farai male questa volta carosello si si eccomi qui sono tornato no no trunks mi aiuti mi aiuti vai vai vediamo un po' vediamo un po' ottimo diablo eh beh questa volta ho vinto ragazzi ecco i vincitori per una volta siamo riusciti riusciti in questa impresa ecco i vincitori ok ragazzi vediamo un po' qui trunks trunks 良かった わね すみません ご心配をおかけしました それにしても あの男俺たちを助けてくれましたが 時空を移動する技を俺たちのことも知っているようでした それに えっ 近いうちに私まさか 心当たりがあるんですか いいえ きっと違うわ あいつはもう こっ おお おお ragazzi ho vinto magari girισbloック anche un trofeo non lo so えし trofeo sbloccato ragazzi keめ giustamente allora il vostro diab Beni mandy tex vi saluta E si conclude qui il gameplay numero 17 Purtroppo Avevo perso Però poi sono riuscito a fare la battaglia Quindi un saluto a tutti ragazzi Ciao a tutti al vostro DiabloTex Grazie per il vostro supporto E appuntamento ai prossimi gameplay Ciao banda